Buonasera, sono Mauro Toffetti, sono iscritto al Partito Radicale, Non Violento, Transnazionale Transpartito. Abbiamo finito da poco, da qualche ora, la visita al carcere di Bergamo. È iniziata stamane alle ore 10 insieme al compagno Lucio Bertè ed è finita intorno alle 15.15. Siamo stati accompagnati in questa visita da Marzia Marchesi, che è presidente del Consiglio Comunale Bergamasco, quindi della città di Bergamo, che era molto interessata a questa visita e soprattutto a una relazione con noi radicali. Siamo stati accolti come detenenti dal commissario comandante Daniele Alborghetti e da Anna Maioli, che è il responsabile di area pedagogica. Siamo stati peraltro accompagnati in uno spazio di questo, in un percorso all'interno del carcere, dal Don Fausto, che è il cappellano del carcere, e dal responsabile sanitario, il dottor Bertè, omonimo del nostro compagno Lucio e credo forse anche parente alla lontana. Le criticità. Fondamentalmente sul limite della Torre Gianni, soprattutto la sezione circondariale, quindi la circondariale laddove in alcune aree, soprattutto sulla grande camerata, vi stanno nove persone in uno spazio proprio al limite, al centimetro della Torre Gianni. Anche qui la promiscuità e l'ambiente, la pulizia proprio al limite, ecco, sufficienza meno meno. Per il resto la struttura si presenta bene, a parte le cucine, sempre della circondariale, che sono già state oggetto di sottolineatura negativa da parte delle relazioni delle ATS, quindi la parte sanitaria, perché lì bisognerebbe metterci mano realmente il soffitto, la tinteggiatura, la parte diciamo igienica, sanitaria, lì dovrebbe avere la priorità. Il resto invece è fruibile, quindi siamo stati accolti in modo ottimo, la collaborazione è stata buona, non ci sono grandi criticità per la parte dei detenenti, anche se sono leggermente in sotto organico, ma leggermente. Tutte le altre strutture, quindi la parte dei protetti, la sezione femminile e il penale, quindi la parte definitiva, non hanno sovraffollamento e quindi si vive bene in una relazione di collaborazione fra detenuti e detenenti. Sembra esserci una buona rete anche all'esterno, proprio per accogliere le situazioni critiche dopo la scarcerazione e vive, sembrerebbe vivere una certa armonia fra la struttura, quindi la squadra che compone la gestione, nella dirigenza del carcere. Noi non abbiamo incontrato il direttore, su altri aspetti io lascio adesso la parola a Lucio con il quale abbiamo fatto tre sezioni di video a parte perché Lucio come vi dicevo è piuttosto affaticato in questo momento e soprattutto oggi la gestione della visita è stata piuttosto onerosa per lui e vi sarà una breve relazione da parte di Marzia Marchesi con la quale torneremo a collaborare per tenere sotto controllo la situazione carceri su Bergamo. Vi saluto e vi ringrazio.